destinazione lago al boschetto ciao a tutti sono andrea e faccio parte dell'azienda sono in compagnia dell'amico massimo e anche esso componente dell'azienda siamo finalmente arrivati al lago al boschetto a torreselle provincia di padova per affrontare una sessione di circa 24 ore purtroppo il tempo non è della nostra parte ma noi non ci scoraggiamo adesso non ci resta altro che andare a calare le nostre canne per cercare di toglierci qualche piccola soddisfazione ciao a dopo ciao a tutti come pronunciato sono massimo componente dell'azienda moon takel in questa sessione dopo un accurato studio del fondale degli spot vari qui presenti abbiamo deciso di affrontare questa pescata nel modo più semplice possibile ora vi presento i tre terminali che siamo andati ad usare praticamente nel terminale a mio sinistra abbiamo deciso di innescare una una bolless low effect polaris ovvero una bolless dal gusto cremoso con un'essenza acida bilanciata con un chicchetto di mais pop up nel terminale al centro abbiamo deciso di utilizzare una doppia fondante low effect idri ovvero una pallina dal gusto fruttato con spiccata essenza acida nel terzo e ultimo terminale abbiamo deciso di usare sempre una pallina low effect idri bilanciata con un chicchetto di mais questi terminali sono molto semplici li abbiamo accompagnati con degli stick in calza piccoli accompagnati dal nostri natural dip polaris e idri questo è il tutto la posturazione non è eccessiva anzi nulla ora aspettiamo e ci aggiorneremo più presto grazie a tutti ciao eccoci qua ragazzi finalmente dopo una serie di catture di carpe di piccola dimensione arrivata una bella specchi di 10 kg circa poco più caduta su su 10 mm accompagnata con un chicco finto giallo bilanciata vedete da specchi perfetti come potete vedere cresce sano bellissimo super soddisfatti perché dopo 11 ore di pesca è arrivata sono bastate poche palline 3 palline in stringer e via è partita bene ragazzi ora la rilasciamo che le temperature sono elevate ciao a tutti bene amici siamo giunti purtroppo alla fine di questa breve ma intensa sessione svolta qui al lago al boschetto che dire è stata una pescata veramente difficoltosa a livello tecnico perché per quanto riguarda la scelta dei nostri spot di pesca caratterizzata principalmente dalla scelta dei nostri spot con un fattore chiave che ci impediva di catturare le carpe che era quella del pesce di disturbo ovvero pesce bianco oppure pesci gatto dopo un'attenta riflessione osservazione col mio socio in pesca massimo abbiamo deciso di cambiare totalmente approccio passando da un pescare con uno stick a uno stringer composto da 3 4 palline al massimo abbiamo visto davvero i risultati cambiare positivamente portando a guadino diverse carpe regine di piccole dimensioni e una desiderata scusate carpe a specchio di circa 10 kg la pallina che ci ha dato un po più di risultato è stata la idri di diametro di 10 mm low effect ovvero un effetto affondante questo è il tutto speriamo di avervi coinvolto con noi in questa pescata ci vediamo alla prossima un saluto ciao